Allora, Peppe Cosimano, 8-0, è stato un bello tondo tondo. Sì, ci voleva anche... La notizia è anche che sei tornato al gol, finalmente. Finalmente, diciamo che comunque si vede che la serie è importante, sono giocatori, tutte le squadre sono molto forti e noi ogni giornata cerchiamo di fare sempre di meglio. E oggi l'abbiamo dimostrato, l'altra volta i miei compagni contro gli Avengers e oggi noi anche con una squadra abbastanza tosta, con i fix. Play-off sempre più vicini. Sì, adesso ci crediamo molto più fermamente perché crediamo nell'obiettivo e continuiamo così. Il prossimo turno avete il portopalo. Sì, anche questa... Anzi, hanno battuto e battuto. Ci sarà il derby fra le tifoserie, questo è importante. Attenzione. No, è una partita molto tossica, loro sono pure molto forti. Poi la nostra bestia nera, mi chiamo. Ah, ho capito. Grande Cusi! Va bene, Cosimano, ti ringrazio. Grazie a te. Ciao, ciao.